Ciao a tutti amici e benvenuti su Starbio. Se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. In questo video parleremo della biografia di Micalia Demeter, famosa sportiva e ex giocatrice di hockey sul ghiaccio. È nata e cresciuta in Ontario, Canada il 14 maggio del 2000. Il suo segno zodiacale è il toro. Ha completato i suoi studi laureandosi all'Ontario Western University. Grazie alla sua bellezza e al suo fisico statuario l'hanno resa una delle modelle più belle al mondo, conquistando tantissimi follower su tutte le piattaforme social più seguite. Il suo più grande successo è arrivato dal suo canale Instagram, dove pubblica costantemente foto sensuali e provocanti, e in giro di poco tempo è riuscita ad essere seguita da oltre 1.600.000 followers da tutto il mondo. La sua altezza è di 165 cm e pesa 54 kg. Micalia adora postare foto e girare video per TikTok, dedica molto tempo alla professione di modella, che sembra aver definitivamente scelto il posto della giocatrice di hockey. Grazie alla sua fame e alla bellezza esplosiva, molte agenzie di moda l'hanno contattato per promuovere diversi brand di abbigliamento e costumi da bagno, aumentando ancora di più la sua popolarità nel web. Secondo alcune fonti online, il patrimonio netto stimato è di circa 1,5 milioni di dollari. Micalia Demeda è attualmente fidanzata con Curtis Gabriel dall'aprile del 2020, giocatore di hockey professionista che attualmente gioca nei San Joe Shark in California. Grazie a tutti, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento e un like, un saluto da Starbio.